buonasera a tutti e bentornati a da peripelagos curiosità società cede mare nostrum oggi ci stiamo sentendo da direttamente a bordo della maiana che è l'ambasciatrice delle vele del panda proprio per un progetto di ricerca sui cetacei del santuario peragos e del mediterraneo ma oggi in particolare parleremo di come parlano tra di loro i cetacei di come comunicano di come si sentono a quanta distanza e quanto magari il rumore presente nel mare disturba la loro comunicazione siamo in compagnia di elena papale che è una ricercatrice del cnr di capo granitola e giulia pedrazi collaboratrice dello stesso istituto e oggi ci parleranno proprio delle ricerche che svolgono nell'ambito della biacustica proprio nel nell'istituto dove le lavorano ci sveleranno qualche curiosità sulla comunicazione dei cetacei mi raccomando se avete delle domande di scriverle al di sotto del nei commenti e noi cercheremo di rispondere a fine intervento se invece volete sapere altre curiosità sui cetacei vi ricordo che c'è il canale su youtube aperi pelagos proprio dedicato ai vari argomenti che abbiamo affrontato e affronteremo sul mondo dei cetacei ora però lascio la parola a giulia e ad elena do loro il benvenuto e buon ascolto per questo argomento prego ciao la ora inizio io rapidamente e un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando eh innanzitutto grazie a te e al ai colleghi del WWF per aver creato questa serie di eventi e per averci invitate ehm io purtroppo vi devo lasciare quasi subito perché eh ho un altro impegno di lavoro in contemporanea ma vi lascio nelle mani di di Giulia comunque abbiamo preparato un un piccolo viaggio in questo eh in questa tematica che eh che ci hai lasciato stasera veramente enorme potremmo parlare per settimane invece ci hai lasciato solo mezz'ora per cui ehm abbiamo voluto ehm toccare dei dei solo degli spunti ehm su ehm vari tipi di comunicazione dei cetacei un focus eh sulla comunicazione acustica ehm i rischi per per queste specie e ehm quello che facciamo noi e quello che possiamo fare insieme chiaramente eh tutti sappiamo che i cetacei sono specie altamente sociali per cui la comunicazione è cruciale per la loro per la loro sopravvivenza per cui io vi vi devo salutare subito e lascio la parola a a Giulia ehm buon ascolto soprattutto buona buona visione e e buona preghiera grazie mille grazie Elena per aver aderito al progetto grazie a tutto il 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 CNR al vostro istituto per aver aderito proprio perché fate un lavoro particolare proprio su questo e siamo onorati di avere la vostra partecipazione allora buon lavoro e io e Giulia a parlare di comunicazione dei cetacei buona serata ciao a voi va bene ciao a tutti ciao Laura ciao a tutti quelli che ci seguono e grazie già ringraziato Elena vi ringrazio anch'io e è un piacere partecipare e dire di cominciare subito perché l'argomento è molto complesso allora condivisione ok ci siamo allora come comunicano i cetacei allora innanzitutto un accenno a che cos'è la comunicazione la comunicazione è uno scambio di informazioni fra due individui attraverso un segnale e questo segnale può essere di varia natura come ha già anticipato Elena nel caso dei cetacei la comunicazione si mette in atto attraverso moltissime modalità diverse e cercheremo di vederle tutte alcune più sviluppate di altre cominciamo passando in rassegna le varie modalità diciamo basandoci sulla distanza alla quale queste possono funzionare innanzitutto cominciamo con una comunicazione tattile intuitivamente questo tipo di comunicazione avviene quando gli individui sono a strettissimo contatto fra di loro questa è un'immagine di una stenella di due stenelle in contatto attraverso le pinne ad esempio quindi diciamo che questa questo tipo di comunicazione è efficace soltanto nel momento il cui gli individui sono a contatto fra loro appunto c'è una comunicazione anche chimica anche questa funzione alle brevi distanze perché le molecole chimiche possono disperdersi in fretta nel mezzo acquatico e c'è una comunicazione visiva questa foto ritrae un delfino comune in un salto del salto non vi anticipo niente perché ci sarà appunto un intervento apposito sul salto tenuto da margherita silvestri della sapienza quindi non vi faccio spoiler comunque il salto e molti altri tipi di comportamenti che sono estremamente appariscenti possono funzionare come mezzo comunicativo ovviamente anche questa è le medie distanze quindi fin tanto che la visibilità è buona oltre ai comportamenti ai gesti alle posture hanno una funzione anche la colorazione appunto quindi la livrea i caratteri sessuali secondari eccetera quindi una serie di caratteristiche visive che possono comunicare informazioni sull'individuo sulla sua età sul suo sesso eccetera dopo di che passiamo diciamo alla comunicazione acustica che sicuramente è preponderante nei cetacei questa in generale è la più utilizzata in nel mezzo acquatico perché il suono viaggia in acqua più velocemente che in aria e quindi permette agli animali di comunicare anche su grandissime distanze quindi per esempio se pensiamo a due balenotti che si trovano magari a centinaia di chilometri l'una dall'altra possono rimanere in contatto attraverso la comunicazione acustica e inoltre ovviamente permette di ovviare al problema della visibilità perché la luce filtra soltanto nei primissimi metri e quindi alle grandi profondità ovviamente la vista non è utilizzabile diciamo che dividiamo la comunicazione acustica in due grandi gruppi che sono la comunicazione non vocale quindi la produzione di suoni non attraverso un apparato vocale specifico ma piuttosto sbattendo il corpo le pine sull'acqua quindi generando un suono e il gruppo della comunicazione vocale diciamo che questa è la comunicazione il tipo di comunicazione principale per i cetacei che si sono veramente specializzati i repertori vocali sono molto ampi complessi quindi abbiamo una grandissima varietà di frequenze utilizzate dalle bassissime frequenze delle balenottere alle frequenze elevate delle focene ad esempio e una grande varietà anche di strutture acustiche quindi fischi suoni impulsivi suoni tonali vere e proprie canzoni insomma c'è una grandissima varietà di suoni utilizzati ovviamente per scopi diversi e quando parliamo di produzione vocale questa viene utilizzata appunto non solo per la comunicazione fra le specie ma anche per ad esempio la ricerca del cibo e quindi nell'ecolocalizzazione o la ricerca di un compagno quindi diciamo ha uno spettro di funzioni veramente ampio prima di vedere un po il repertorio vocale dei cetacei vediamo come producono suoni allora per quanto riguarda i misticeti quindi balene balenottere sembra implicata la laringe quindi un meccanismo simile a quello dei mammiferi di terraferma che però non è ancora conosciuto nel dettaglio mentre per quanto riguarda gli odontoceti cioè non si sa ancora se è implicata la laringe ma si conosce molto bene il complesso delle monkey lips e dorsal burse quindi una serie di sacche aeree che permettono il passaggio dell'aria che vibrando genera un suono vediamo il repertorio vocale allora per quanto riguarda i misticeti il repertorio vocale lo dividiamo in suoni pulsati quindi sono dei suoni molto brevi che vengono utilizzati per le interazioni sociali e questi sono i nox dei mohan quindi dei suoni molto più lunghi sempre a bassissima frequenza che servono per le comunicazioni a lunga distanza perché possono viaggiare appunto per molti chilometri e poi le song alle song abbiamo dedicato diciamo un capitolo a parte perché queste sono ovviamente conosciutissime le canzoni delle megattere prime fra tutte e queste canzoni hanno una sintassi veramente complessa quindi c'è un ordine gerarchico in cui le note si associano a formare a formare delle frasi dei temi veri e propri e quindi una sorta di discorso se vogliamo quindi in cui c'è un ordine gerarchico delle varie parti qui abbiamo riportato lo schema della canzone della megattera che appunto è la più studiata però è giusto dire che non solo la megattera produce canzoni molte specie di balene e che le producono e qui abbiamo riportato l'audio di una balena della Groenlandia questo come tutti gli altri audio della presentazione sono stati raccolti dal CNR in natura attraverso idrofoni e qui vi ho riportato sia lo spettro quindi la visualizzazione di questo suono sia appunto l'audio che conferma mi laura che si senta l'audio che si senta fantastico si sentono si sentono tutte le diverse note quindi avete sentito quanti tipi di suoni diversi vengono prodotti nell'arco di una singola di una singola canzone e qui vi ho rimesso anche lo spettrogramma della balenottera comune la nostra balenottera che abbiamo nel mediterraneo perché anche questa produce delle canzoni che sono più semplici a livello di note infatti lo potete vedere già dallo spettrogramma perché le singole note sono questi piccoli impulsi che si vedono qui quindi sono tutti simili tutti identici a 20 hertz quindi frequenze veramente basse che se l'audio non viene velocizzato non possiamo sentire e sintatticamente però anche queste sono organizzate in sequenze che poi in canzoni proprio quindi anche in questo caso seppur più semplice avere la propria canzone passiamo adesso ok ok agli odontoceti in questo caso anche dividiamo il repertorio vocale in due grandi gruppi che sono i suoni tonali ovvero i fischi questi sono suoni relativamente più lunghi un secondo un secondo e mezzo con frequenze relativamente più bassi di quello dei suoni pulsati e vengono utilizzati nelle interazioni sociali mentre abbiamo un altro grande gruppo che sono appunto i suoni pulsati in cui abbiamo i click classicamente utilizzati per l'ecolocalizzazione questi sono suoni impulsivi quindi molto brevi ad elevatissime frequenze che vengono usati dagli odontoceti per vedere tra virgolette sott'acqua e individuare anche le prede e poi abbiamo tutta un'altra categoria di suoni sempre sempre pulsati che sono i burst e questi sono prodotti a un tasso di ripetizione così elevato che dall'orecchio umano vengono percepiti come un suono continuo questo tipo di suoni ancora è poco studiato ma si pensa sia implicato comunque nella comunicazione sociale e nelle interazioni del gruppo a questo punto vi ho riportato il video di un delfino comune in cui si sente anche l'audio appunto fischi e click questo è stato registrato dal CNRI Mediterraneo e bellissimi tra l'altro molto fortunato questo incontro direi di questo gruppo di delfini comuni e qui invece vi ho riportato un po' di suoni di vocalizzazioni dei vari cetacei che possiamo trovare nel santuario Telagos sono stati già ampiamente tutti descritti nel primissimo incontro di questo ciclo di conferenze quindi non mi dilungo però la cosa che risalta subito all'occhio sicuramente è la varietà di suoni che questi animali producono che possiamo già percepire appunto a livello visivo ma che adesso ascolteremo a livello appunto acustico iniziamo dal Tursiope sicuramente il più famoso poi abbiamo stenella ok passiamo al grampo sì 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 sono veramente divertenti ok passiamo al prossimo glabicefalo e poi abbiamo balenotte era comune una bella song questi che sentiamo sono tutti gli impulsi quest'audio è stato velocizzato cinque volte per poter sentire appunto gli impulsi perché sono a frequenze talmente bassi che noi non possiamo percepirli e poi qui abbiamo i click di capodoglio scusate ma scusate ma scusate ma ok ok quindi qui ci sono eventi di vari click che aumentano c'è un inter click quindi una distanza tra vari click più ampia e man mano che l'animale individua un oggetto una preda questi diventano sempre più frequenti per aumentare la precisione e quindi permetterli di individuare meglio appunto la preda e capirne le caratteristiche nel dettaglio anche il capodoglio anche il capodoglio potrebbe essere tranquillamente il nostro campione di beatbox perché fa dei suoni allucinanti la frequenza del suono aumenti all'avvicinarsi della preda dimostra quanto la natura abbia permesso a questi animali di evolvere questo tipo di localizzazione in un ambiente dove comunque la vista non è il loro senso più utilizzato ma invece che loro utilizzano i suoni per orientarsi per trovare le prede per socializzare e questo sonar che ti avverte man mano che la preda si avvicina secondo me è una delle cose più esaltanti ed emozionanti degli odontoceti sì è vero è vero concordo pienamente super preciso poi quindi veramente per una localizzazione perfetta infatti sì è veramente incredibile questa questo adattamento e allora vediamo adesso ripasso ripasso no ok allora quando parliamo di comunicazione acustica non possiamo non monitorare il monitoraggio perché il fatto che questi animali siano così attivi dal punto di vista acustico ci permette di studiarli con più facilità ovviamente immaginiamo che questi animali sono molto elusivi passano la maggior parte del tempo sott'acqua spesso abitano zone magari non è il caso del nostro mediterraneo però altre zone che sono ostile difficili da raggiungere per l'uomo come ad esempio i poli e quindi questo strumento del monitoraggio acustico ci permette di ricavare informazioni su di loro in una maniera ovviamente molto più facile ed efficace come si mette in atto il monitoraggio acustico attraverso uno strumento che è l'idrofono quindi semplicemente un microfono che può essere messo sott'acqua che vi ho riportato in questa foto in particolare questo strumento è stato posizionato dal CNR alle isole Svalbard in Norvegia ed è stato lasciato lì per poter registrare in continuo dati su quella determinata area io qui vi ho riportato due video sempre dei colleghi del CNR questo primo in realtà è mediterraneo in cui si vede lo sgancio dell'idrofono che risale in superficie per poter essere poi recuperato ok vedete quindi poi dalla dalle collegiate che poi questo verrà recuperato e invece qui nel secondo video questo invece ha le Svalbard quindi al polo il recupero dello strumento vero e proprio in questo caso lo strumento non è stato sganciato da una persona ma piuttosto c'è un sistema di sgancio automatico che permette allo strumento di risalire in superficie questo poi viene viene recuperato il monitoraggio è utile come abbiamo detto perché si possono innanzitutto monitorare gli animali ok ma si possono monitorare anche altri tipi di suoni ambientali suoni di origine antropica e quindi possiamo farci un'idea di ciò dell'appunto dell'ambiente acustico presente in una determinata area quindi capire quali specie ci sono per quanto tempo ci sono se sono presenti tutto l'anno o no e capire appunto quali altri suoni sono presenti nella stessa area grazie ai dati appunto raccolti alle Svalbard per esempio durante la tesi io mi sono occupata di studiare la presenza della balenottera azzurra e della balenottera comune alle Svalbard e quello che è venuto fuori da quest'analisi per esempio è che mentre la balenottera azzurra è presente in un periodo molto ristretto di tempo che è l'estate la balenottera comune sembra essere presente tutto l'anno contrariamente alle aspettative in quanto questa è una specie migratrice quindi ci si aspettava che d'inverno questa specie non fosse presente ma pare che almeno qualche individuo si fermi quindi grazie al monitoraggio abbiamo potuto avere un primo campanello di allarme del fatto che la presenza acustica di questa specie in questa area sta cambiando chiaramente non sappiamo le motivazioni potrebbe essere dovuto al cambiamento climatico come no questo richiede successive ricerche però intanto un primo campanello di allarme ci è venuto proprio dal monitoraggio acustico e oltre a questo abbiamo potuto monitorare anche l'attività antropica e quindi l'interazione di questi animali con le nostre attività ad esempio abbiamo un progetto promosso dalla regione Lazio in collaborazione tra il CNR e l'Università della Sapienza il progetto del FEOS che si propone di studiare l'interazione del Tursiope lungo il litorale laziale e le isole pontine con l'attività di pesca proprio grazie all'acustica e quindi capire come questi animali si posizionano sulle reti a che distanza, come si distribuiscono quindi cercare di studiare tutto questo tipo di interazione attraverso appunto il monitoraggio acustico oltre a ciò l'acustica ci permette di monitorare un altro grande tipo di suoni o meglio di rumore che è il rumore antropico il rumore antropico è sicuramente uno dei principali effetti che l'attività umana ha su cetacei come su moltissimi altri organismi acquatici questo è generato principalmente dal traffico nautico quindi navi di qualsiasi tipo, commerciali, ricreative, scientifiche, di ricerca, militari qualsiasi tipo di imbarcazione a motore genera un rumore quindi per rumore intendiamo qualsiasi suono che un'attività antropica emette nell'ambiente acquatico qui in questa mappa vediamo una densità del traffico nautico a livello globale dove le zone rosse sono quelle ovviamente con la maggiore intensità e quindi ci rendiamo conto della quantità di imbarcazioni che si muovono e quindi del rumore che queste possono generare per darvi un'idea più o meno di cosa si tratta qui abbiamo riportato l'audio, la registrazione di un rumore prodotto da un traghetto per darvi un'idea più per la quantità Questo è piuttosto fastidioso, però immaginate che gli animali ovviamente non possono interromperlo e moltiplicate questo da un singolo draghetto per tutte le imbarcazioni che ci sono, per tutti i giorni e vi potete rendere conto della quantità di rumore che noi mettiamo in acqua ogni giorno. Oltre al traffico, qui abbiamo riportato altre due fonti di rumore antropico, che sono le prospezioni geofisiche, quindi tutte quelle imbarcazioni che scandagliano i fondali alla ricerca di idrocarburi e i sonar, come quello militare. Tutto questo rumore è un problema per i cetacei, come per altri organismi acquatici, perché? Perché questo rumore ha degli effetti che ovviamente possono essere più o meno gravi a seconda di quanto il rumore è distante dall'animale. Ad esempio, ovviamente sulle lunghe distanze, l'animale percepisce semplicemente il rumore, lo distingue dal rumore di fondo, ma questo non gli genera un problema. Più questo rumore è vicino, più gli effetti sono gravi. Quindi andiamo dal mascheramento delle vocalizzazioni, quindi un disturbo comportamentale, perché per esempio se pensiamo a una balenottera che magari sta cantando per la riproduzione, il fatto che la sua vocalizzazione venga mascherata dal rumore può ovviamente impedirli o creargli dei problemi nella riproduzione. O, per esempio, come riporta questa vignetta fantastica, se l'animale, come gli odontoceti, usa il suono per alimentarsi, il rumore antropico ovviamente lo impedisce all'animale di vedere, tra virgolette, in maniera corretta e quindi questo può avere dei problemi ad alimentarsi. Poi arriviamo all'allontanamento, quindi se il rumore è eccessivo, l'animale può decidere di abbandonare l'area, però se ci troviamo in aree sensibili, come ad esempio narseri, quindi aree con i cuccioli o zone di feeding, quindi dove l'animale si nutre, questo può essere un problema, perché magari queste aree hanno delle caratteristiche specifiche necessarie per quell'animale e che questo stesso animale può non ritrovare nel momento in cui decide di spostarsi in un'altra area. E poi arriviamo ai danni fisici veri e propri, quindi perdita di udito temporanea o addirittura permanente. Diciamo, avendo illustrato questo problema, ci chiediamo, ok, ma noi che possiamo fare ogni giorno nella nostra vita quotidiana per cercare di dare il nostro contributo a questa causa? Allora, innanzitutto mettiamo in atto dei comportamenti che cercano di ridurre al minimo il nostro impatto, quindi spegniamo i motori se siamo in prossimità degli animali o evitiamo di accelerare, di fare appunto accelerare i busti con l'imbarcazione a motore. Cerchiamo di preferire attività a basso impatto, quindi canoa, appunto surf, vela. Seguiamo i regolamenti quando ci troviamo in aree marine protette che sono particolarmente sensibili e soprattutto cerchiamo di sensibilizzare gli altri riguardo al problema diffondendo informazioni corrette riguardo al rumore e ai possibili impatti che questo può avere. Detto ciò, io ho finito, spero insomma di avervi illustrato in maniera generale quanto più possibile sulla comunicazione nei cetacei, vi ringrazio e ripasso la parola a Laura. Io ringrazio te Giulia, è stato interessantissimo. Senti, abbiamo una domanda, a che profondità viene calato l'idrofono? Ti chiedo solo di interrompere la condivisione dello scherzo. Ah certo, hai ragione. A che profondità arriva il posizionamento di un idrofono? E questa profondità varia a seconda della specie che uno vuole monitorare? Certamente, ovviamente possiamo posizionare l'idrofono a profondità diverse, dipende se parliamo di una specie costiera o magari ad esempio di un torsiope, lo piazzeremo più in superficie, se parliamo di specie pelagiche o che magari abitano nelle grandi profondità, lo posizioneremo a una profondità più bassa, quindi dipende da cosa vogliamo studiare. Certo, assolutamente. Lì nell'Artico a che profondità erano state? Cioè gli idrofoni con cui sono stati raccolti i dati attraverso le tue analisi e la tua ricerca erano fatti per ambiente pelagico, diciamo, o più costiero? No, no, più costiero perché comunque ci trovavamo in un fiordo, quindi non eravamo assolutamente mare aperto e lì potevamo monitorare ovviamente varie specie, sicuramente balenottera comune, eccetera, attivi di balenottera, beluga, molte specie comunque che abitavano tutta la zona del fiordo. C'era anche un idrofono piazzato sulla parte più esterna che quindi pendeva il mare aperto, però generalmente l'interno. Ok, perfetto. Ci chiedono inoltre quanti idrofoni ci sono nel Mediterraneo, se lo sai e se ce ne sono. Oddio! Sicuramente, posso rispondere io a questa domanda? Certo, prego. La presenza degli idrofoni, diciamo, strumentazione, quelli che rimangono fissi, è una presenza abbastanza rara, ecco, anche perché si tratta di strumenti molto difficili da piazzare, da regolare, eccetera. Sicuramente ce ne sono stati nel passato, nel Golfo Rigure, in particolare cinque negli anni 2011-2012, però in questo momento sinceramente non sono a conoscenza di quanti ce ne siano o se ce ne siano. Una cosa è certa, poter avere a disposizione una strumentazione del genere permette di esplorare profondità alle quali l'uomo, l'essere umano, anche solo con un'immersione, con un idrofono in mano, non potrebbe mai raggiungere, soprattutto perché a quelle profondità si trovano animali di cui non conosciamo tanto. Vi ricordo che molte delle specie, delle otto specie che ci sono nel Mediterraneo, sono considerate come carenti di dati a livello di conservazione. Quindi come lo zifio, ad esempio, come il globicefalo, come il grampo, per esempio lo zifio che è il super campione di immersioni dei nostri mari perché è stato monitorato ad arrivare fino a 3.000 metri, 2.992 metri di profondità e un'immersione di due ore e mezza di lunghezza, insomma, è difficilissimo da monitorare anche perché questi animali possono sparire per ore e ore, quindi è già un colpo di fortuna poterli avvistare, seguirli in profondità è impossibile e quindi senza ombra di rubbio poter potenziare un monitoraggio come quello acustico non solo ci aiuterebbe a raccogliere dei dati per conoscere meglio queste specie ma anche per capire quanti danni facciamo noi, perché come ci ha fatto vedere Giulia è evidente quanto rumore produciamo noi in mare, dalla costanza del traffico nautico che povere balenottere che comunicano le stesse frequenze del rumore prodotto dalle navi sono costrette a trovarsi costantemente in balia di questo rumore che come diceva giustamente Giulia non possono interrompere in nessuna maniera, cioè noi quando siamo infastiti dal rumore o chiediamo ai vicini di abbassare il volume, il titolo, la vignetta che hai fatto vedere ma le balenottere questo non lo possono fare. e poi altri tipi di rumore, vedi gli air gun, vedi l'impiego di sonal militari che possono provocare come abbiamo visto dei danni fino a danni permanenti, perdita dell'udito oppure dallo spavento, gli animali dalle profondità possono risalire in superficie velocemente ricordiamo che sono mammiferi quindi una risalita veloce può provocare un'embolia polmonare e questo può causarne la morte, può causarne la rottura dei timpani quindi rumori particolarmente forti sono molto rischiosi per tutte quelle specie che utilizzano gli altri frequenti mentre il traffico nautico sicuramente provoca dei danni, dei fastidi alle nostre balenottere ricordiamo che la balenottere comune che Giulia ha studiato in Artico è l'unica specie di balenottere, quindi di misticete presente nel Mediterraneo bene, io Giulia ti ringrazio, per me è stato interessantissimo poi come ben sai condividiamo la passione per l'acustica perché la stiamo studiando e approfondendo entrambi quindi ci legava l'argomento e ci tenevo tanto che tu e Elena partecipaste con il vostro istituto per parlarci della comunicazione e della musica dei nostri mari perché questo è alla fine vedendola in maniera romantica grazie per averci fatto sentire tutti quei suoni perché io alcuni non li avevo nemmeno mai sentiti tipo il graffo non l'avevo mai ascoltato è stato bellissimo e invece invito, non ci sono altre domande ma vi invito a seguirci al prossimo appuntamento di giovedì parleremo proprio dei leap divers, quindi dei capodogli e degli zifi in maniera più approfondita e scopriremo tante curiosità insieme ai ricercatori di Sini Sardinia invece se volete vedere le precedenti puntate vi ricordo di collegarvi sul canale YouTube io Giulia ti ringrazio ancora grazie a voi, è stato un piacere è stato un piacere anche per noi, ringrazio tutti voi per averci seguito e ci vediamo giovedì, al prossimo a Peripelagos, ciao ciao a tutti, grazie grazie